Un cittadino romeno residente a Trieste, ASP di 23 anni, è stato denunciato la scorsa notte per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. Gli agenti delle volanti della questura sono stati aggrediti dal giovane mentre gli operatori del 118 stavano prestando soccorso e la sua ragazza è rimasta priva di sensi in campo San Giacomo in stato di ebrezza alcolica. L'uomo si è avventato contro i poliziotti a calciapugni, uno di essi ha riportato lesioni giudicati guaribili in tre giorni. Mentre la ragazza è stata portata alle pronti soccorsi ospedali di Cattinara, il ragazzo è stato accompagnato in questura dove ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo dando testate contro il vetro e farendosi a una tempia.